Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare delle cause di malattia interne secondo la medicina tradizionale cinese. Le cause esterne di malattia sono i sei agenti patogeni ai quali è stato dedicato un precedente video. Le cause interne di malattia alle quali è dedicato il video attuale sono le proprie emozioni se disarmoniche. Poi esistono anche cause sia interne che esterne di malattia, per esempio il cibo e il proprio medico curante. Il cibo e il proprio medico sono infatti considerati causa di malattia sia esterna che interna, poiché entrambi entrano da fuori in un corpo e costituiscono per questo aspetto un fattore esterno di malattia. Tuttavia il cibo e il proprio medico sono altrettanto scelti dal paziente. La scelta consapevole o inconsapevole che sia è una causa di malattia interna. I campi emozionali disarmonici sono dieci, tuttavia nella tradizione sono indicate le sette emozioni per motivi numerologici, pur lasciando traccia di come rintracciare i tre omessi. Il desiderio, Xi, l'ira, Nu, la preoccupazione, You, la ruminazione, Xi, la tristezza, Bei, la codardia, Hong, la paura, Jing. Il desiderio Xi affligge la fase evolutiva a fuoco e pertanto implica primariamente le orbite funzionali di intestino, penue, cuore, triplice riscaldatore, pericardio. Ogni stato emotivo affligge primariamente un certo numero di orbite, da quel momento in poi può dilagare e affliggere tutte le altre. Questo vale per tutte le successive indicazioni. Per esempio, Mu, la ira, affligge primariamente la fase evolutiva legno e dunque le orbite funzionali di fegato e vescica biliare, ma successivamente può implicare anche le altre. La preoccupazione, You, affligge la fase evolutiva metallo e pertanto implica primariamente le orbite funzionali di polmone e intestino grasso. La ruminazione, Xi, affligge la fase evolutiva terra e pertanto implica primariamente le orbite di stomaco e milza pancreas. La tristezza, Bei, affligge la fase evolutiva metallo e pertanto implica primariamente le orbite funzionali di polmone e intestino grasso. La paura, Kong, affligge la fase evolutiva acqua e pertanto implica primariamente le orbite funzionali di rene e vescica urinaria. La codardia, Jin, affligge la fase evolutiva legno e pertanto implica primariamente le orbite funzionali di fegato e vescica biliare. Ogni fase evolutiva dunque afflitta almeno da una emozione negativa. Metallo e legno tuttavia sono afflitte da due. Nel legno troviamo un eccesso, l'ira, ma anche un difetto, la codardia. Altrettanto troviamo nel metallo, un eccesso, la preoccupazione e una mancanza, la tristezza. Dunque per garantire la salute e la vita sana e il benessere occorre percepire tutte le emozioni in modo armonico e fluido. Dunque esiste la giusta collera, la giusta gioia, la giusta tristezza, la giusta riflessione, la giusta paura. L'uomo in equilibrio emotivo non è affetto da insensibilità, al contrario partecipa a tutte le emozioni necessarie per l'interazione e la comunicazione col suo ambiente, ma lo fa in un modo armonico senza espandere o comprimere una delle stesse. La patologia dovuta alle emozioni disarmoniche è invece dovuta all'espandersi di una delle emozioni, che a questo punto chiameremo iperemozione o distress da eccesso. Oppure al contrario una risposta emozionale può essere disarmonica se si riduce, generando una ipoemozione o un distress da difetto. Dunque abbiamo 15 diverse possibilità. 5 emozioni armoniche che sostengono la salute e 10 disarmoniche che sono causa di malattia interna. Andiamole ad esaminare una a una partendo dalla collera. La normo collera, la collera armonica, è la capacità positiva di proiettarsi verso l'esterno. L'individuo ha fantasia, iniziativa, coraggio, decisione, fiducia in se stesso. Se va in ipercollera diventa iroso, collerico, geloso, iperreattivo. Se va in ipocollera è un codardo e ha incapacità di proiettarsi verso l'esterno, è timoroso, insicuro e compensa questo deficit attraverso pignoleria, pedanteria. È una persona estremamente indecisa. La gioia, la gioia armonica è il piacere di vivere con ciò che si ha. Quando si perde questa bellissima emozione, si va in ipergioia. Non avendo piacere di ciò che si ha, si pensa di provare piacere attraverso qualcosa che non si ha. E abbiamo tutto il mondo dei desideri e delle illusioni. Il soggetto che perde la gioia in difetto, dunque va in ipogioia, è insoddisfatto e contemporaneamente disilluso. La normoriflessione è quella capacità che ci permette di trovare equilibrio, che ci permette di integrare gli opposti e di rimanere armonici. Questa importante emozione può andare in eccesso, andando a configurare l'iperriflessione. È uno stato di ossessione, di compulsione, di ostinazione. In difetto abbiamo l'assenza, l'indifferenza, la superficialità. Nel metallo troviamo la normotristezza come emozione armonica. Qui abbiamo l'introspezione e la capacità di raccoglimento della persona. Colui che è normotrista è in grado di interiorizzarsi. Se questa condizione va in eccesso, il soggetto si preoccupa o si occupa esageratamente di se stesso. Quando abbiamo l'ipotristezza o il difetto abbiamo lo stato di melanconia, che potremmo anche chiamare una disoccupazione di se stesso. La paura, la normopaura, o la paura armonica è la capacità di resistere, la volontà di sopravvivere, la razionalità nel garantirsi la sopravvivenza. Quando la normopaura va in eccesso abbiamo lo spavento o il panico. Quando la paura va in difetto abbiamo l'ansia, l'angoscia, la paura cronica, la paura senza una motivazione reale. Bene, le 10 cause interne di malattia sono state espanse con il termine di campo, poiché ciò che per se stessi è emozione, per gli altri esternamente a noi costituisce ambiente dunque campo. Per un approfondimento del termine campo emozionale e una sua corretta definizione occorre andare a vedere sulla playlist il video numero 9 nella playlist verde del canale, dedicato alla descrizione dei campi emozionali. Nella slide attuale vedete all'interno del cerchio le posizioni emozionali armoniche, collera, gioia, riflessione, tristezza, paura. All'esterno i due basculamenti opponenti che configurano l'iper emozione o la ipo emozione. Spesso i soggetti che perdono la posizione di equilibrio possono anche basculare tra iper e ipo emozione configurando un elemento di instabilità ulteriore. Dunque ricapitolando abbiamo nella tradizione cause esterne di malattia che sono le altre esempio le altrui emozioni nell'ambiente quando disarmoniche. Le cause interne di malattia sono invece le proprie emozioni se disarmoniche. Le cause sia interne che esterne di malattia sono le scelte, il proprio medico curante e il cibo. Bene con questo siamo arrivati alla fine del video di oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale ma soprattutto biffate la campanella. Questo vi consentirà di essere avvertiti riguardo alla pubblicazione di nuovi video sul canale. Spero di vedervi presto ancora. Arrivederci!